Cosa dobbiamo fare? Mamma, mamma mi ha solo detto di starti vicino al posto. Anche mio padre. Perché non te la metti così? Così come? Così. Sei sempre bene. Grazie. Certo. Secondo te mi hai già attaccato al morbillo? Boh, non lo so se ne sono capace. Dai, fai del stirchio. Attacca. Mi piace quando sorridi. Se sorridi riesce al morbillo della bocca e me lo prendo io. Se no ti devo baciare. Ci baciamo subito, così finiamo e posso tornare a casa con mamma. Per me va bene così. Ti stai qua e basta. Mi fa star bene. Sì, però lo scopo non è far stare bene e stare insieme. e lo scopo è far stare male a me con il morbillo. Scusa. No, non fa niente. No, non fa niente. Mi sto leggendo la mano? Sì. E cosa dice di bella? Grazie miei. No, non fa niente. 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 No, non fa niente.